Ragazzi, questo qua è un pennarello, ora lascia questa, non sto a fare pubblicità a nessuno e non voglio che si veda la marca Più o meno ha fatto gli stessi gol di Edingeco in serie negli ultimi 4 mesi Allora io dico no, sono contentissimo, sono contentissimo, come una Pasqua, sono una Pasqua, ecco io sono la Pasqua, ok? Però io dico no, santi Dio, ma Dzeko, ma la palla, ma la vuoi buttare dentro? La vuoi buttare? Arriverà a me il momento in cui Dzeko deciderà di buttare dentro il pallone? Arriverà mai? Perché io spero che arrivi prima o poi? Cioè, santo Dio, solo in Champions, santi la musichetta dei Champions, si arrapa e butta il pallone dentro Non è possibile che in serie A, dopo 20 partite, hai fatto due gol Che poi dico, ok, aiuto la squadra, ok, io sapete, io ho un amore incondizionato per Dzeko, ormai mi conoscete, quindi lo sapete Però, un conto, un conto, è l'amore incondizionato Se tu fai cagare una partita, te lo dico, io so così, io so così, per me può essere anche Gesù Cristo e la Madonna Quando sbagli, sbaglio, ok? E oggi, ragazzi, ci siamo fatti rimontare perché Dzeko il pallone non lo butta dentro Perché a te ti arriva quel pallone e mi direte, sì, vabbè, sì, ma ti stai attaccando una cosa? Era difficile perché a un metro dalla porta sei ad Ingeco Sei il bomber della Roma, il pallone me lo butti dentro Me lo prendi e me lo, mettetevi sempre la cinta quando guidate Lo prendi e lo butti dentro Non c'è altro, non c'è altro Comunque, Zaniolo, ragazzi, Zaniolo, Zaniolo, io sono innamorato di Zaniolo Io penso che se la Roma dovesse vendere Zaniolo, perché succederà in futuro nella vita che la Roma venderà Zaniolo Perché non teniamo mai un cecio in mano Mica attaccherò i cancelli di Trigori insieme a Bonucci, che lui si attacca e le cose come fosse un hobby, ragazzi E non mescolerò finché Zaniolo non tornerà a Roma Ma io, ragazzi, Basito, al di là del gol che è bellissimo, il controllo palla da seduto Cioè, il controllo, ma poi, destro-sinistro, manda al bar i giocatori avversari, cambio de passo, fondo-campo Ragazzi, Zaniolo è un giocatore spaziale, Zaniolo è un giocatore spaziale Zaniolo è un giocatore spaziale, anche oggi migliore in campo, Zaniolo Prevenuti, un po' di casino da una parte e da un'altra La Roma che giocava Marin Piattino, la Roma che tiravate qua, il Torino che tiravate là Io voglio fare un applauso, io, eccolo, faccio un applauso, ragazzi, faccio un applauso al Torino Sono proprio forti, siete proprio forti, io vi auguro di arrivare in Europa Perché siete proprio una bella squadra Io avevo paura già dall'inizio, perché poi li conosco, perché Lianco che torna dall'infortunio ha un bel piedino Perché Olaina, ragazzi, è mostruoso Olaina è mostruoso, io Olaina lo prenderei oggi come vice Olaina è mostruoso Ansaldi che gioca, ha giocato centrocampista, Ansaldi oggi Cioè, ragazzi, Ansaldi ha fatto una partita della Madonna Ma poi tutti i due gol del Torino, bellissimi Il Torino poteva tranquillamente meritare il pareggio La vittoria me la prendo perché primo tempo totalmente Roma Secondo tempo più Torino, molto Torino Secondo tempo Torino Però, ragazzi, sono contento perché la Roma ha avuto la forza Che manca sempre alla Roma Di reagire Di dire Intanto sembrava una scorreggiata, in realtà era la cinta Di reagire, dice Non me ne frega niente, non me ne frega niente ho preso gol Non voglio crollare mentalmente come faccio sempre Reagisco E di fatti arriva il gol di El Sharaoui Finalmente tiriamo Finalmente tiriamo Ci abbiamo provato con Pellegrini Tiriamo da fuori, siamo più aggressivi Tra l'altro, nel primo tempo, perché abbiamo tenuto il 2-0? Ora lasciate stare il palo di Iago Falca alla fine Perché, ragazzi? Perché abbiamo tenuto il 2-0? Perché intelligentemente alzi la linea della difesa Li pressi alto, li pressi aggressivo E loro non fanno niente Questo bisognava fare Nel secondo tempo siamo entrati dicendo Ma quasi quasi, magari Se teniamo su 2-0 Se ci dice bene Bello che la Roma abbia continuato ad attaccare Però io penso che se avessimo pareggio 2-2 Non avrei fatto nessun sfogo, ragazzi Perché è vero che Da 2-0 a 2-2 Un po' tiro del culo Però, ragazzi, non è un suicidio Roma È un Torino che se la gioca alla pari È un Torino che in questo momento Non ha niente da invidiare alla Roma E non ha niente da invidiare a tutte le squadre Che sono in zona Champions Che sia Milano Cioè, intendo quelle che lottano per il quarto posto Milan, Roma e Lazio Non ha niente da invidiare Gioca a viso aperto Gioca bene C'ha avuto degli sfavori arbitrali durante l'anno Oggi per me il ricorso della Roma era nettissimo Penso non ci sapere Vabbè, ma anche Sirico non ha detto niente Insomma, vabbè Ovviamente il Saraui lì è bravissimo Tra l'altro Karsdorp Karsdorp che nel secondo tempo è callato drasticamente Però ci sta Ma che primo tempo ha fatto Karsdorp, ragazzi? In fase difensiva impeccabile Mette quel pallone per il Saraui Che Ah, proprio Ah, stai proprio bene Stai proprio bene E poi ragazzi Ma in cazzo Perché lì Gioca si mangia il gol E che succede appena Gioca si mangia il gol? Che Olaina quasi quasi ce lo fa E poi Rincon ce lo fa La partita si riapre La mentalità cambia Lì non va bene Poi mi spiegherete il discorso Di tutto il primo tempo De Uomini e Donne Che carezza Si è messa a parlare De Uomini e Donne per 25 minuti Sinceramente questo non l'ho capito Finalmente Cristante usa l'intelligenza Ragazzi Cristante mancava di passo e di intelligenza Ha trovato tutte e due Adesso è un buon giocatore Adesso è un buon giocatore Mi ricorda molto quello dell'Atalanta Gioca anche più arretrato Sono contento Sono contento Comunque questi sono tre punti ottimi Sono tre punti ottimi Che valgono come la vittoria contro una big Ragazzi Il Torino gioca È fortissimo È veramente fortissimo Vederli giocare a pallone Mi ha inquietato Cioè quest'anno ho affrontato squadre Big Che partono per arrivare in Champions Che mi hanno messo meno in difficoltà del Torino Ma al di là della difficoltà Che poi può essere una difficoltà mia Perché dicevo col Cagliari È pareggiato 2-2 Ma lì c'è l'errore tuo mentale Le amnesie Le stupidità Oggi la Roma ha giocato bene E il Torino se l'ha giocato alla pari E il Torino ha dimostrato di saperci fare Ha dimostrato di potersi giocarsela alla pari Con una squadra come la Roma Che comunque stava giocando bene Quindi tanto di cappello Vi auguro veramente il meglio Detto questo Siamo quarti per il momento Aspettando il Milan che va a Genova Aspettando la Lazio che va a Napoli Grazie per aver visto questo video Buon sceladale Iscrivetevi al canale E noi come sempre Ci vediamo ad un prossimo video